Dieta di qua, dieta di là, mangio questo, mangio quello, tolgo i latticini, riduci il glutine, togli gli alcolici, metti questo, attento agli zuccheri, la proteina, dieta chetogenica, c'è centomila cose, centomila esperienze. Ma in realtà esiste una valutazione seria scientifica per capire quali siano i cibi che siano compatibili con me, con il mio corpo, con il mio apparato digerente e che non sia una presa per i fondelli. Esiste un metodo scientifico? Certo, finalmente esiste. Esiste un nuovo tipo di valutazione che si chiama valutazione genetica predittiva che va a leggere il vostro DNA, va a confrontarlo con la banca dati mondiale della medicina in materia e solo usando la bibliografia scientifica con solide basi importanti vi va a consigliare quali siano i cibi che voi potete introdurre con alto risultato di assimilamento e basso scarto, quindi basso residuo tossinico e invece quali siano i cibi che vi danno un basso risultato e un elevato scarto tossinico e quindi un appesantimento del vostro metabolismo. È facilissimo scoprire come oggi, basta un tampone salivare all'interno delle guance, 30 giorni di lavorazione e avete 57 pagine di report su com'è la vostra salute genetica ovvero cosa è scritto nel vostro DNA che potreste avere in futuro e cosa potete fare oggi a livello alimentare, di terapia luminosa, di abitudini sportive eccetera eccetera per evitare di avere certe patologie ma soprattutto finalmente potete avere nero su bianco con certezza quali siano veramente i cibi che fanno per voi e quali siano ad evitare. Basta chiacchiere, basta generalizzare, cominciamo a fare dei trattamenti veramente individuali. Ogni persona è unica e il suo DNA è unico e quindi cominciamo a fare valutazione e consigli personalizzati unici solo per te, ti aspetta.